Bernard Casneuf, ministro dell'interno francese, è il nuovo primo ministro. Sostituisce il dimissionario Manuel Valls, candidato alle primarie socialiste. Casneuf, ministro in prima linea in questi anni di lotta al terrorismo in Francia, era la prima scelta di François Hollande per sostituire Valls. Rimanevano alcune riserve sullo stato d'emergenza in vigore da tempo in Francia e finora gestito in prima persona da Casneuf. Al suo posto, al ministero dell'interno, arriva Bruno Leroux, fino ad oggi capogruppo socialista all'Assemblea nazionale. Le dimissioni di Manuel Valls erano arrivate all'indomani del suo annuncio di voler correre alle primarie del centro-sinistra per candidarsi all'Eliseo. Una scelta resa pubblica dopo che il presidente in carica, François Hollande, aveva detto in televisione di rinunciare a correre per un secondo mandato.